Musica E' una stazione fantasma, quella di Tor di Valle. Oltre un anno fa sono iniziati lavori di ammodernamento, ma nonostante il cantiere sarebbe dovuto terminare entro la fine di quest'anno, gli interventi sono bloccati da mesi. E lo scenario che si trovano davanti moltissimi fruitori della Roma Lido è davvero pessimo. Ovunque ci sono nastri, transenne e passerelle improvvisate, rifiuti abbandonati dentro e fuori il cantiere, per non parlare del fatto che dal lato della via Ostiense non esiste più una biglietteria e l'unica, automatica, si trova al di là dei tornelli. C'è un ascensore per i disabili, per le persone che hanno problemi di camminare, insomma, ci sono... Poi questi lavori non si finiscono mai. Quando piove qua specialmente si allaga tutto, poi anche se uno si sta sotto, che si siede, piove dappertutto, anche sui trenini piove pure, insomma. E' veramente una cosa che dovrebbero intervenire a fare, a migliorare il servizio. Ha lavorato quasi 6-7 mesi, poi non vede più l'opera, non vede più nessuno. Quindi i lavori sono fermi? Fermi perché, non lo so, che motivo non lo so. E' tenuta parecchio male questa stazione però? Certo, perché vede come una anziana, una persona, scende la scala, prende il biglietto, non c'è, devi scendere di sotto, va e gira, c'è un casino. E io come giovane va bene, invece c'è persone anziane che fai. Anche le persone disabili non hanno più possibilità di entrare? No, c'è proprio un casino. Pessime le condizioni da entrambi i lati, ma raggiungere il parcheggio della via Ostiense, soprattutto al calare del sole, diventa un'impresa. Questo è il pessimo stato in cui è ridotto il passaggio pedonale che conduce al parcheggio della stazione. Come vedete la vegetazione ormai ha praticamente inglobato la passerella e oltretutto rifiuti sono abbandonati veramente ovunque. La stazione in questione è già sinonimo di contenziosi aperti con l'azienda sul lato sicurezza sia dei lavoratori in questione di Atac che vengono e despertano il servizio presso la suddetta stazione e soprattutto l'enorme difficoltà e disagio creato ai cittadini, utenti della stazione e dell'Aerromalito in questione, il quale sono costretti a dover camminare in mezzo a un cantiere a cielo aperto. Nell'esposto effettuato da me nei confronti dell'azienda ci sono state anche delle risposte dall'azienda in se stesso, il quale non possono effettuare lavorazioni di pulizia e messa in opera perché ancora è aperto un cantiere di lavorazione, girando giustamente quello là che è la problematica alla proprietà, che parliamo del comune. Quindi fondamentalmente la vera e propria domanda che noi ci poniamo è sul compito e sul lavoro in se stesso che viene effettuato in assessorato dall'assessore Linda Meleo. Lei giustamente come tutti quanti si coprono dietro il fatto di mancanza di esperienza, non è questa qua più in esperienza, questa qua è proprio in competenza, perdonatemi il parlare. La stazione è in condizioni davvero pessime, c'è un passaggio pedonale perché deve andare al parcheggio che è impraticabile, io mi domando, molte ragazze anche al calare del sole, si sentono al sicuro a passare lì? Non credo. No, assolutamente, soprattutto nella parte della via Ostiense le persone sono costrette a camminare dentro i cespugli, dentro proprio l'erba alta, creando così soprattutto nelle ore che possono essere serali, in sicurezza nel camminare. Quindi fondamentalmente chiunque può essere nascosto, ma esclude anche semplicemente passare nella sporcizia e in una maniera indecorosa come deterre una stazione della Rito di Roma. Da circa quattro mesi mi dicevi la situazione è questa e non solo, non è cambiata ma è peggiorata, perché la stazione forse stava meglio prima di questi interventi. Assolutamente, non ha mai versato in uno stato eccelso, però fondamentalmente non era un cantiere aperto, quantomeno in quelle là che erano le varie riunioni che ci sono anche stati, dei vari cittadini con le loro fonti di dove poter fare, ma ad oggi uno stato così da abbandono non si è mai verificato. L'insicurezza più totale, le persone sono costrette a camminare su una semplice passarella, fortunatamente oggi non è una giornata piovosa, nelle altre giornate che comunque si manifestano episodi di acqua, ci stanno 20 cm da una parte e 20 cm dall'altra. Calcolando che le persone devono passare soltanto su una semplice passarella di alluminio, c'è chi scende dalla metropolitana che va in direzione Ostia, deve aspettare quelle persone che passano per prendere quella Roma. Cioè cose inaudite e il personale sta qui giustamente abbassando e chinando il capo, oltre che lavorare nella sporcizia più totale perché non ci sono servizi igienici per gli stessi lavoratori. Non c'è assolutissimamente nulla, in più si deve prendere le responsabilità e le rampogne di un'azienda che fondamentalmente in questo caso è difficile ed è brutto dire da parte di un sindacalista che un'azienda vada bene, però si deve prendere delle colpe che non gli competono. Il futuro della stazione potrebbe essere legato a quello dello stadio della Roma, ma è evidente che in queste condizioni non può garantire un servizio adeguato agli utenti che tutti i giorni suffurgiscono della Roma Lido e tanto meno ai tifosi. Il futuro della stazione potrebbe essere legato a quello di un'azienda che non può garantire un servizio adeguato.